Allora, mi aiuta! ...dell'incontro tra Certinati e Sabatino, valevole per la cintura di Muay Thai. Si preparino Ricca e Viscicò. ...dell'incontro tra Certinati e Succhiini. Bine, ieeeh! Erick! Bravo! bravo si! tirampia! vedete suba! tirampia! non c'è nulla che ci chiede! bravo! golo! golo! vai! vai a due! Vai a noi! fine della prima ripresa si preparano Ricca e Missy Go no Ricca e Missy Go